buongiorno benvenuti a tutti si volevo dirvi che nel corso di questo weekend riaprirà a castelvetro di fatto il turismo cioè sarà possibile visitare i luoghi storici più importanti di castelvetro con una capacità attrattiva che costerà di almeno quattro iniziative iniziative si fa per dire però insomma almeno quattro momenti sui quali intenderemo appoggiare appunto la riapertura e sarà possibile visitare i luoghi storici più importanti con un sistema di audio penne anche levizzano rangone riapre stello quindi è possibile visitare il castello e la prossima settimana aprirà anche il museo rosso graspa 22 aprirà il museo rosso graspa che è un punto riteniamo di grande importanza e ci sarà sempre su castelvetro l'apertura di fili d'oro a palazzo sapete che abbiamo questa importantissima mostra di vestiti del rinascimento quindi del cinquecento assolutamente importanti da visitare e sarà poi un trekking storico c'eri anche tu sulle colline che tratta di argomenti resistenziali quindi mentre si cammina qualcuno ti erudisce su quello che è avvenuto in quei lontani tempi quindi vi invito tutti a tornare a visitare castelvetro venire a godere delle nostre bellezze e delle nostre possibilità di cibarsi e di bere del buon abbrusco